Piazza Affari nel mirino della speculazione. Dopo la Spagna la volta dell'Italia ad essere messa sotto accusa dai mercati finanziari internazionali. A Milano la borsa è in alta lena, ma il peggio è sempre in agguato. Secondo la stampa spagnola l'equazione è semplice. Dopo Madrid toccherà a Roma passare sotto le forze caudine della speculazione. Secondo quest'analista della penisola iberica l'attacco non è contro la Spagna in quanto tale, ma contro l'Europa nella sua totalità. E la prova è data proprio dalla crescita dei rendimenti italiani nell'asta dell'obbligazione. I tassi dei titoli ai dieci anni spagnoli, i cosiddetti bonos, hanno registrato una crescita dell'1,5% nel giro di quattro mesi. Mentre per i BTP, sempre a dieci anni, si è passati dal 4,8% a fine marzo al 6,1% registrato a giugno. E a Roma il primo ministro Mario Monti non vuole fare polemiche e Fitch esclude invece l'ipotesi che l'Italia debba ricorrere agli aiuti. Intanto la Commissione europea non ha commentato le informazioni diffuse dalla stampa internazionale sull'esistenza di un piano dell'Unione sui nuovi controlli alle frontiere e la limitazione della circolazione dei capitali in caso di un'uscita della Grecia dalla zona euro.